Sono accusato di produzione e spaccio di stupefacenti, sequestro di persona e tentato omicidio. E sono un ricercatore universitario. Grande professore! Mettiamo su una banda. Guardate, questa roba è sgravatissima! Ti rompiamo il culo! Comunque, questa roba è l'altra! E' un'altra! E' un'altra! E' un'altra! Un'altra! Da Don! Un'altra! Mettiamo! Grazie a tutti.